Le indagini proseguono non solo a livello provinciale ma a livello regionale grazie a un gruppo di lavoro che si è costituito fra l'arma dei carabiniere e la direzione regionale dell'Ips. Siamo partiti da Bari e dalla provincia ma le attività proseguiranno in tutta la regione. È un'indagine importante perché ha messo in luce questo sistema truffaldino che ha visto coinvolti non solo farsi imbraccianti ma anche titolari di aziende e mediatore e commercialisti con grave inocumento per la rata dello Stato e quindi dell'Ips per un ammontare di circa 10 milioni di euro. Una mega truffa ben ingegnata che ha permesso di sottrarre illegalmente all'Ips oltre 10 milioni di euro. A scoprirla sono stati i carabinieri del comando provinciale di Bari e i militari della compagna di Trigiano in collaborazione con funzionari Ips. Una truffa che aveva come protagonisti numerose aziende agricole, 831 braccianti, due commercialisti e due consulenti del lavoro. L'accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Luogo scelto per la base operativa dell'organizzazione Trigiano nel Barese, anche se ramificazioni sono state registrate nelle province di Brindisi, Foggia e Taranto. Almeno 8 le aziende agricole coinvolte che avevano messo in piedi un sistema attraverso il quale assumevano fittiziamente i braccianti agricoli i quali potevano così usufruire di varie indennità, dalla maternità alla disoccupazione, dalla malattia agli assegni familiari. Braccianti che dovevano versare 1.500 euro per essere assunti, somma in seguito rimborsata. Vero costituite delle aziende ad hoc per assumere falsi braccianti. Queste aziende alcune volte rimanevano addirittura in vita solo per un anno. Il vantaggio era rappresentato per i lavoratori, per i falsi braccianti, dalla possibilità di conseguire prestazioni economiche quali disoccupazioni, malattia, maternità, assegni familiari. In alcuni casi il lavoro investigativo di carabinieri e funzionari INPS ha permesso di bloccare in tempo il pagamento delle indennità consentendo di salvare almeno 2 milioni di euro che certamente sarebbero finiti nelle casse dell'organizzazione. Un lavoro reso possibile grazie all'istituzione di una task force regionale dell'INPS che in collaborazione con i militari proseguirà nel lavoro investigativo. L'indagine infatti è tutt'altro che conclusa. C'è questa task force di ispettori regionale con ispettori che provengono da varie parti d'Italia. Il colonnello diceva che questa operazione per volontà del direttore regionale dell'INPS e del generale dei carabinieri Vincelli continuerà anche a livello regionale.